Siamo a Cefalù, nel più importante cantiere ferrodiario della nostra Sicilia. È l'opera più importante in termini quantitativi e qualitativi, circa 500 milioni di euro. Era un cantiere, quando siamo arrivati, praticamente era fermo. Era un cantiere abbandonato, lo abbiamo ripreso, lo abbiamo rianimato con maestranze e mezzi e grazie a Italfair, grazie a RFI, ma grazie all'impresa Toto. Oggi ci sono circa 300 unità di maestranze, mezzi, imprese del luogo e del circondario. Hanno animato finalmente questi 6 chilometri di galleria, 4 chilometri e 180 metri. 12 chilometri e 600 metri di doppio binario che collegherà Ogliastrillo a Castelbuono passando a Cefalù. È un'opera straordinariamente importante, è un'opera che crea veramente un grande livello infrastrutturale che il governo musulmane ha ricreato, ha rianimato e restituirà, regalerà a tutti i siciliani. Grazie. 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 Grazie.